Roberto Ciufoli ha organizzato una mini reunion della premiata ditta a tale e quale show dato che per imitare i ricchi e poveri ha chiamato al suo fianco Pino Insegno, senza contare che era presente anche Tiziana Foschi nel pubblico. Lui, ovviamente, ha vestito i panni di Angela mentre il suo amico ospite quelli di Angelo. Un'esibizione che ha permesso a Roberto Ciufoli di ottenere un bel po' di punti grazie alla sua simpatia ma che è partita col piede letteralmente sbagliato, dato che è scivolato dalle scale poco prima di iniziare a cantare. Ecco il video. Roberto Ciufoli e Pino Insegno hanno ricordato la premiata ditta. La premiata ditta non si è mai sciolta, ha dichiarato Pino Insegno in una recente intervista per TV Blog, restiamo amici e con Roberto Ciufoli porto tutt'oggi avanti degli spettacoli. Francesca, Draghetti, NDR, non ama più tanto apparire e si è concentrata sul doppiaggio, mentre Tiziana, Foschi, NDR, si muove ancora tra cinema e teatro. In 30 anni abbiamo raccontato molto, forse tutto. Abbiamo lasciato un bel ricordo e penso che debba essere rispettato. In passato si accennò a qualche serata di gala, ma il rischio è non avere più la freschezza di una volta. Il pubblico è rimasto con la mente all'immagine di quei quattro ragazzotti pieni di entusiasmo. Persino Lopez, Marchesini e Solendi tornarono assieme una quindicina di anni fa, ma non fu la stessa cosa.